Questa è una storia un po' particolare perché è una birra, già l'etichetta, c'è questo teschio un po'... Un po' metal. Sì, un po' così, un po' lugubre. C'è questa torre di babele che viene... E' una birra che ha avuto una storia, già questo qua non ci capivamo. Poi, non so, è stata bloccata in dogano, insomma, tutto è avuto una serie di cose e che erano state confermate dal fatto, io ho un piccolo file Excel in cui metto il grado, si chiama grado plato il grado, poi, fatemi la domanda poi su doppio malto il grado plato, il grado plato che sarebbe praticamente il grado zuccherino del mosto su cui si pagano le tasse, quindi non si paga sull'alcol, la tassa sulla birra di produzione ma si paga su quanto zucchero c'è del mosto, quindi potenziale alcolico poi ne ho detto che si trasformi tutto in alcol se io ho 10 plato che corrispondono a 100 grammi di zucchero in un chilo di mosto posso avere una birra che ha 4 gradi o 5 e mezzo quindi per l'ora è uguale, io pago sempre su 10 plato, quindi sul grado zuccherino quanti gradi è questa birra? ah sì, quindi ho messo su questo programmino il plato di questa birra che era tipo 14 e mezzo e poi a fine fermentazione c'è il densimetro quindi birra ha fermentato tutto e si misurano i plato finali quindi c'è una formuletta che da prato iniziale al plato finale ti dà il grado alcolico che è una formula, che in un foglio Excel metto 17253 clicco e guardo e qua ho fatto questa cosa ed è venuto 666 e ho detto non mi piace questa cosa e infatti poi ho dato l'etichetta che non sapevo perché l'ha fatta l'americano me l'ha mandata e è arrivata l'etichetta col teschio poi per fortuna un'altra cosa che è successa perché a quel punto ho detto che non è che dobbiamo fare uno sgarbo quindi mettiamo 6,66 e l'avete presentata? sì sì con questa video e poi c'è stata una multa nel senso che c'è una legge che non conoscevamo che nessuno è una legge del cazzo che praticamente il grado in etichetta va messo con un solo decimale quindi non potevamo mettere 6,66 ma dovevamo arrotondare e quindi è diventata 6,7 ma c'è anche scritto comunque ho detto questa domanda bastava leggere